L'Associazione Bigenitori di Cremona, oggi pomeriggio, ha organizzato un momento di svago e divertimento per i bambini che hanno partecipato al concorso Disegna e Crea il tuo Natale. Si sa che alla fantasia dei più piccoli in fondo non c'è davvero limite e così i 20 migliori lavori sono stati premiati al Lab Sapiens. In prima fila loro, i bambini, provenienti da tutta la provincia di Cremona, pronti per essere chiamati e premiati. Sì, effettivamente sì, è un piccolo segnale di ripresa che li ha visti proprio noi che li abbiamo seguiti in questi mesi, si sono proprio impegnati tutti dal primo all'ultimo, anche nelle cose che ci scrivevano tramite i social e via discorrendo abbiamo visto. È stato proprio, secondo me, è stata una cosa molto bella e la terza volta che la facciamo è molto difficile perché è una cosa che seguirli tutti, poi quando un bambino ti chiede una cosa non sai come rispondere, proprio il problema è quello, quindi già da una settimana ho vinto io e come sono arrivato di qua è difficile, però oggi secondo me viene fuori qualcosa di molto bello. I premi, giochi, maglie dei campioni sportivi del nostro territorio, ma anche buoni sconto da spendere in negozi, locali e ristoranti di Cremona e provincia, un modo per sostenere concretamente l'attività dell'associazione.